Si chiama Wong Ching Kit. In questi anni ha fatto una grande fortuna grazie alle cosiddette criptovalute e pensate che avrebbe deciso di lanciare un numero ancora non identificato di banconoti da ben 100 dollari che corrispondono a circa 10 euro da uno degli edifici più alti della città. Inevitabile che molte persone, anche se la cifra non è molto alta, 10 euro circa, si siano poste sotto il grattacielo nella speranza di andare ad arraffare la maggior parte dei banconoti. La scena però in questione non è sfuggita alla polizia che avrebbe deciso di erastare Wong Ching Kit per turbamento dell'ordine pubblico. Mi lasciato, il giovane avrebbe fatto sapere le proprie ragioni. Volevo dare un insegnamento ad essere come Robin Hood. Insomma, una motivazione più che importante secondo me, ma che invece non è stata tenuta in considerazione dalla polizia. Un cordiale saluto a voi tutti, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.